La processione silenziosa entra nella Basilica Vaticana. Il Papa si prostra davanti all'altare della confessione in questo Venerti Santo, Passione del Signore. Nella celebrazione presieduta dal Papa, la predica di padre e canta la messa, parla ai giovani in vista del Sinodo di Ottobre e li invita a salvare l'amore umano dai modelli oggi imposti. Siate di quelli che prendono la direzione opposta. Abbiate il coraggio di andare controcorrente. La direzione opposta per noi non è un luogo, è una persona, è Gesù Cristo, il nostro Dio, il nostro Salvatore. Un compito è affidato in modo particolare a voi giovani, salvare l'amore umano dalla deriva tragica nella quale è finito. Esorta quindi a guardare la figura del giovane discepolo ed evangelista Giovanni, testimone diretto della Passione di Cristo, per scoprire l'amore di Dio che si dona e ci ricerca.